Era la valigia, nella resacca dell'elezione, era l'albero, nelle tosse notturne, era la finestra, nelle luci dei messaggi. Nell'abbraccio ci si stratifica o si prende il volo, il volo sottratto del venire al mondo, il volto addomesticato, gli strati di una ritirata, necessaria perché terrorna. Accadono, soprassedendo, accuminati, sterminati, infranti, dolenti sui confini, gli stati dell'assenza, le superfici assolate, le morbidezze, nei ritrovamenti. Grazie a tutti.